ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video oggi sono qui con Iacorollo per fare la ctm trinity ora voi chiederete ma perché vediamo secondo episodio ebbene ragazzi perché il primo episodio lo trovate sul canale di Iacorollo troverete anche il link in descrizione e ovviamente anche il prossimo video lo troverete sul suo canale quindi ci alterneremo con gli episodi quindi ragazzi siamo arrivati in quest'area abbiamo già recuperato la prima lana gialla giusto iaco ovvio ovvio si l'ho presa anch'io e adesso dobbiamo affrontare questo mondo che sembra fatto con i funghi sembra e qui c'è mario style esatto e qui c'è anche un buco enorme quindi vediamo un po come prima prima lei prima lei devo buttare vadi vadi ma posso fare uno mi schianto ok ce l'ho fatto wow mi sono bagnato tutto e vabbè non c'è luce aspetta grazie molto gentile allora io ho già delle cose nell'inventario vi faccio vedere un attimino visto che non avete potuto guardare nel mio inventario la scorso episodio abbiamo già un bel po di cose armi varie e quindi occhio che vedo la tnt è mi sa sai di trappola mortale quei creeper e mi sa anche a me ci sono già questi scheletri che il cibo si abbassi così tanto e sì però guarda questi scheletri che strani con un colpo li sciottiamo prima con quanti e si ha ragione sponer sponer lo rompo lo rompo e spawnano tantissimo e iaco roppi lo spawner roppi lo spawner intanto che io li colpisco bravo mamma mia sono letali hai visto piano piano c'è uno che mi e qua ce n'è un altro questo è normale però ok mamma mia sparano è ce n'è un altro da qualche altra parte dov'è che mi sta sparando lo qua aiuto settima la tnt la la togliamo di mezzo ma che non ci guarda che ti stai seguendo uno scheletro è sotto di te lo spawner hai l'ho visto 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 aspetta lo rompo lo rompo lo rompo rotto un altro no era quello di prima che ho fatto volare aspetta fammi prendere il cibo occhio al creeper aspetta 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 ho detto che ho fatto bene a togliere la tnt pensa il danno cosa c'è dentro qua ragnatele ho preso le scale ho preso io prendo la posizione di carica però devo lasciar qui qualcosa lascio qui questa che non mi fare non faccio niente erano io lo prendo non si sa mai la pelle la prendo guarda che spadona hai visto la prendo io sì sì va bene e le ragnatele cosa facciamo le prendiamo occhio al creeper aspetta ok muori te la stai cavando benissimo da solo sì più o meno ecco eccolo qua lo spawner devo anche mangiare c'erano due c'erano bene aspetta che mangio la tnt non so perché l'ho tenuta ma perché mi chiedo io no no e silver fish no e petila in fondo e adesso andiamo a prenderli aggiriamo lì passiamo da un passo ci diamo rispettato o l'ho sentiti l'ho sentiti che brutti che sono lì su eccolo l'ho ucciso c'è la spada iper iper uber ora qua che lago di lava o non è esploso ho fatto un urlo che poteva essere a 4000 decibel io tolgo la io tolgo la tnt comunque ma in apri la cassa oddio aspetta fammi vedere il contenuto patate e un sacco di cobblestone poi c'è la pozione wither di livello 3 che è cos'è la pozione wither di livello 3 abbiamo un sacco di frecce le sto prendendo tutte c'è anche un bellissimo stivaletti ce li hai te li stivaletti belli sì sì se ti lascio lì qualcosa perché è in maglia in maglia allora li piglio no li presi io bastardo allora oh guarda cosa c'è lì eh ma lasciamolo giù il creeper ah eccolo qua gusti ciao vatti a fare un bagno nel lago va bene io non me la sento occhio che c'è un altro spawner qua tu non guardi e ti butta giù eh guarda quanti creeper lì sulla roccia adesso gli lancio una frecciata tanto c'ho 72 frecce guarda vediamo se lo prendo vediamo se lo prendo no eh l'ho preso l'ho ucciso anch'io ho ucciso l'altro io oh occhio che dietro magari ci sparano e cadiamo nella lava sarebbe una brutta fine rompila tnt rompila rompila aaaah ok uh 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 si confondono con i cattus i silverfish si confondono con i cattus e dov'è lo spawner eccolo qua eccolo qua un quanti spawner aspetta che devo anche mangiare dopo oh ne è spawnato uno ne è spawnato uno ok devo mangiare i creeper ci siamo dimenticati ok dove odio mangio le patate io ma perché sparato una roba inutile ma quante casse ci sono in questa è ricca ricca si ma è pollo io prendo la cosa eh prendi guarda io il pollo lo piglio meglio si io la senti lascio giù i semi lascio giù il pane che me ne faccio di questa roba nel metto nel metto mi serve prendilo te prendilo te senti qua io io mi lascio giù anche le spade vecchie perché io sì in effetti sì senti lascio giù anche le ossa tanto anche questo ma anche le torci tre stacche ne ho ma io le torce le tengo infatti non le stiamo piazzando le torce effettivamente è già abbastanza illuminato però ma osserviamo un po il mondo dove siamo c'è questo mondo pieno di ragnatele dall'alto va bene basta ok dopo questa divagazione alla quark andiamo avanti senti io rompo perché c'è il creeper l'ho preso al pelo e ma c'è anche sotto resta io te lo ricordo sì però io rompo la tnt non perché voglia la tnt ma così il creeper non esplode se no fa un danno mega galattico occhio occhio ci sono di nuovo i cosi super sponosi finchia fanno un tiro lontanissimo per la propria 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 l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto stanno buttando in alai mi sta mettendo qui ok non si sa mai no infatti pur ca qua l'incantagione a però siamo belli protetti così è prendo io turbo le bistecche così mi pare va bene io le patate che le ho già prese la pala prendila non so io tengo io e metto giù questa e riprendo senti questa qua projectile ormai ce n'è una più potente anche questa non ti è venuta voglia di funghi basta quei funghi si un pochino ma anche trifolati cosa ne dici ovvio aspetta che c'è la tnt ragno è esploso un creeper hai lasciato esplodere un creeper eh non si fa eh non si fa non si fa ma meno esplosano il fungo e non sulla tnt dai ha fatto un po' di funghi aspetta che qua ci sono i silverfish eccolo qua lì lo spawner ce la fai aspetta sennò dall'alto occhio che c'è il ragno ma quanti eh ecco l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto la giostra è ma quante quante roba mi stanno colpendo quanta quanta aspetta che mangio la patata qua mangio la patata buona allora andiamo su mettiamo un po' di torce eccolo lì guarda il nostro amico creeper forse non abbiamo detto agli iscritti che questa mappa è in 1710 e te l'ho detto che era meglio toglierla tnt ma basta ragno è un'esplosione enorme hai visto e te l'ho detto che la tnt è da togliere è inutile ah basta guardalo là lo spawner facciamo lì no no lo prendo perché di creepa rompo ok l'ho rotto qui se cantiamo facciamo un bel po occhio 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 mi stanno sparando mi stanno sparando è quello lì cosa c'è dentro lì pantaloni e ma io cosa mi manca è giusto quelli mi mancavano vai ok le bistecche prendile tu il piccone lasciamo lì il piccone e com'è no bello efficienza velocissimo prendilo prendo per rompere dai allora lo prendo io butto via i picconi inutili aspetta questo è buono per gli spawner ok fai mangiare per favore stiamo salendo hai visto che roba piano piano stiamo facendo un cerchio tipo una spirale una spirale si occhio è che sono i silver ma non abbiamo ancora incontrato il monumento ma ci sarà speriamo come veloce sto piccone ottimo no 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 cos'è sta roba cos'è no spider giochi no c'è c'è lo spawner si lo rompo l'ho rotto guarda che vedo della tnt lì eh significa crippa in arrivo ok ok urca 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 cominciamo a potenziarci ah però allora io prendo le patate perché mi piace cosa cosa c'è guarda davanti vabbè ma abbiamo l'arco da chilometri guarda sciottiamo lì sciottato sciottato giù ok piazza pulita o ma lì dobbiamo prendere qualcosa dentro là e c'era una roba da prendere ai sponderani sono sui funghi a orca però è un problema è un problema hai preso dall'aprendito dalla cassa se ci sei il cappello non lo vuoi tu si lo potevo prendilo te dai io sono abbastanza equipaggiato adesso mi sento forte c'è che è perché parli tanto forse dici allora metto giù la tnt io prendo c'è il crippa lo spawner lo spawner lo spawner è qua aspetta 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 non esplodere io le cose in cartagione li prendo guarda che ci sono due spawner di creeper si prendili io prendi perché dopo magari possiamo incantare una cassa c'è una cassa stupenda da cibo vabbè prendo anche questo ormai non ci serve più niente il piccone no 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 aspetta aspetta che c'è un ragno che mi butta dentro nel lago a momenti ho il piccone non posso prenderlo aspetta devo lasciare qua qualcosa ah ho preso l'ho preso mamma mia corbezzoli che disastro oh distruggo lo spawn di ragni si allora ritorno nella cassa la pelle non so io la prendo la pelle ma non saprei cosa farmene cosa prendo la pelle ma non so cosa far bene lì prenditi l'arco power punch 2 ma io c'ho già un arco potente indistruttibilità e vabbè distruttibilità niente mai dormito stanotte no sono messo a montare i video scusate occhio al creepa perché sai adesso che io vado in vacanza anzi sono già in vacanza con uscivano questi video esatto anch'io penso ti manderò la cartolina ti porto con me ti porto i silverfish mi hanno scocciato adesso vado a rompere gli spawner adesso io mi la metto col signor minecraft allora di qua o di là non lo so jacob penso di qua non lo so dove c'è la strada e vedi anche di lì si sale andiamo a vedere di qua prima va che mi sembra oh i nostri amici del cavolo chi creepa ah no è super veloci dov'è lo spawner dai tu rompi 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 ma quanto spawnano ma con quale velocità cos'era è un creepa un creepa non riusciamo a romperlo fatto ok belli stick spawner qua veloci sì come no io c'ho 40 livelli cioè ti rendi conto è di qua non si sale di là si sale allora aspetta fammi vedere qua che c'è qui c'è una cassa eh sì con una spada della madonna secondo me sì quella che ho io a fare aspetta anche allora aspetta che mollo lì qualcosa perché mamma mia io non c'ho più spazio e io tolgo le spade inutili adesso lascio lì anche delle frecce c'è no 40 stack cioè no però le tengo non si sa mai i funghi via le patate crude i blocchi non servono metto giù anche il carbone no il carbone forse le fornaci no metto giù anche il carbone mi sto nutriendo a patate fai te ma scusa ma prendi il polli e c'ho anche quello tutto uso ok dici di qua si va avanti e allora di là cos'è aspetta fammi andare allora fammi fare un giro dai cosa c'è un mister ex ah no ma si dice da dove siamo arrivati ma no c'era una cassa però attenzione c'è uno spider jockey mi ha infuocato oh attento 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 qua lo spawner cosa c'è nella cassa è altri pantaloni belli prendo io frecce che non so cosa facciamo dove siamo arrivati qua e può essere ma quanta roba c'è dentro queste casse vabbè potevamo ma quanto cibo sto perdendo io fammi capì perché ce n'è talmente tanto in giro di cibo io prendo le torte mi sono appetitose comunque sai cosa è praticamente noi siamo arrivati dall'altra parte potevamo fare due strade allora di qua man perché mi pare di aver visto qualcosa di interessante scala e si ma quanto va il cibo allora per ripa occhio che coli si aspetta che tolgo la tdt ok oh oh spider jockey due due spider jockey vai allo spawner se lo trovi mamma mia mi stanno massacrando mi hanno infuocato mi hanno infuocato ok distrutto vaga sto morendo ok ucciso mamma mia non voglio morire sto qua qua carne prendi la pozione di salvezion instant health prendine tu dopo se mai me le dai e io ce l'ho già due quindi va bene procediamo allora o guarda lì in alto cos'è è la lana dai che la lana dai che la lana non ci sono spawner qua strano eh eh infatti si sono spawnati dietro infatti eccolo qua torcia vedi qua oh ancora sti spider jockey sono letali oh iaco aiuto ma ne arrivo no non voglio morire giovane prima o poi tutti moriranno no no mi sono infuocato aspetta che sono messo male ecco l'ho deciso non potrei vivere senza di te man aspetta aspetta gli amici veri non muoiono guarda che c'è il creeper vicino alla tnt occhio 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 non vedo niente che era infuocato eccolo qua togli la tnt no ho tolto lo spider jockey e il creeper era carico era il creeper super carico era per dire sì ma dobbiamo andare a vedere cosa c'è lì ecco infatti posso andare a vedere vai io ti copro le spalle aspetta dai che prendiamo la lana dai che la lana cos'è chi ha trollato un mattone ha trollato è il classico troll no non prendi il creeper aspetta no anch'io non lo prende anche a me devo mangiare man datemi le patate no questi creeper non si possono prendere man come non si possono prendere sono indistruttivi no dov'è che è lo spawner allora eccolo qua mamma mia che creeper sono è troll è il creeper troll siamo un sushi creeper troll vado lì vicino al bolo ma sono sopra due spawner di silverfish i silverfish man sono occupato adesso a che cosa ho esplosato la cassa e sto cercando di salvare quello che si può salvare no ho preso tutto comunque io qua li ho uccisi tutti ah salve ma togliere questo creeper qua magari non l'ho visto potion incredible extermination with a 3 ma cosa serve ma non lo so guardalo qua ho rotto la spada ne ho un'altra abbiamo tante sì c'ho questa ma questa no però perché l'ho buttata ok allora questa qui mi sa di una bella arena qui ci saranno altre trappole scommettiamo può essere guarda qua quanti cosi qua tipo è eccolo lì eccolo lì eccolo lì aspetta io sono occupato con i ragni qua ci sono un sacco di di cactus ok distrutto rosspone di ragni oh 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 sono evitato un tedesco col vitra guardami bravo ok ucciso no ce n'è ancora uno no i baluba i baluba no i baluba ok ok creeper creeper non si può rompere non si può rompere il creeper devi farlo esplodere oh 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 magari non vicino non vicino la tnt ecco l'unica cosa è quella i creeper troll sono guarda qua guarda qua guarda qua dove c'è ogni silverfish devo mangiare aspetta c'è il baluba il baluba è caduto perfetto perché stavo infuocandomi lascio un po di roba la cassa dei poveri la chiamerò questa si rispetto alle altre guarda che c'hanno degli spawner qua che non abbiamo visto tipo questo ok no man troppa tnt trappola ehi ma sotto tra l'altro è bucato e finiamo sotto aspetta fammi prendere vita e fammi fare una cosa no vai via libera tolgo comunque la tnt io eh eccolo tolta eccolo là dove era il creeper e di quelli che non si possono causare te l'ho detto jacob sei salito sul colpo ma perché devono esplodere no no disarro per lo spawner io ci sono cagato è stato bellissimo quando ho visto volare sulla mi vado anche a rimbalzare contro una parete prima ma basta te olè che proata eh questa è già meglio prendi la spada che l'hai rotta ma arriveremo alla fine di sta mappa o no? ma io lo spero perché sto cominciando a perdere le speranze di sopravvivere qua dentro no dai siamo riusciti ad andare avanti bene ma perché sti creeper super esplosivi occhio occhio qua è dura c'è il doppio creeper mamma mia dove sei volato jacob ma almeno funziona ma basta voglio rompere questo devo rompere questo devo rompere questo aiuto dai 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 il creeper doveva farlo esplodere fai esplodere il creeper vicino allo spawner così lo rompe ma basta dai dai li sto spawnkillando li sto spawnkillando distrutto mamma mia raga è più fastidio oh c'è dietro dietro oh l'ho visto l'ho visto sono fastidiosissimi sti cosi si dove cacchio è il monumento prima c'ha non lo so ce l'hanno trollata occhio che qua ecco qua lo spawner lo spawner preso ok oh ancora sta roba infuocata basta c'è uno che sto spawnando occhio che c'è della tnt di fianco a te ok è stato previdente ma basta ma basta ma è ora di basta ok ecco guarda guarda forse questa volta non ci trollano curiamoci perché mi sa che la vedremo più eh ma dici magari invece è tranquilla non vedo spawner andiamo andiamo ole c'è niente haha vediamo se questa è la lana giusta ci trolla ancora si blu lana blu perfetto oh ma adesso ci sarà un altro punto col checkpoint eh credo di si allora scendiamo eh dobbiamo buttarci giù buttiamoci no ma c'è la dov'è l'acqua wow ah eccola via Geronimo in realtà mi sono buttato ma ho avuto paure di aver sbagliato anch'io ma è un'altra un'altra lana ma come come un'altra lana oh no andiamo a vedere abbiamo già fatto anche la terza ma è blu anche questa mh mh io ho imprimo tutte e due sai perché eh mi sa tanto che una delle tue è finta e infatti l'altro è un lapislazzo mi ha sbagliato a guardare mi ha sbagliato a guardare mi ha sbagliato a guardare sapevo lo sapevo io non l'ho guardato pensavo fosse la lana blu lo sapevo quindi abbiamo anche il blocco bonus è una mappa troller ragazzi oh checkpoint checkpoint perfetto allora fatemi fare il checkpoint tac e dunque ragazzi abbiamo recuperato la seconda lana e anche un blocco bonus credo quello di lapislazzoli questo non ve lo so dire vi ricordo che domani uscirà il prossimo episodio sul canale di Iacorollo e noi ci vediamo invece dopo domani ciao ciao